Vediamo adesso invece come sfruttare gli oggetti. Abbiamo visto che per inserirli nello stage, nel nostro piano di lavoro, basta trascinarli dal menu laterale. Vediamo un attimino cosa succede, come trasformarli, come utilizzarli. Clicchiamoci sopra e vedete che ogni volta che cliccate sopra un oggetto vi appare una nuova finestra che può essere anche espansa. In questa espansione qua avremo dei parametri da settare ma che in questo caso non sono interessanti perché sono a lunghezza, larghezza e altezza e vedremo che cambieremo queste dimensioni molto più facilmente in un altro metodo. Andiamo a chiudere la forma compatta e vediamo che possiamo cambiare innanzitutto il colore. Il colore può essere scelto tra questi già predisposti o fare un colore personalizzato. Si va a scegliere questo il tono e qui si va a scegliere sia la luminosità che l'intensità del colore. Quindi facciamo questo, che ne so, facciamo un verdone, un verdone eccolo qua. Una volta chiuso, scusate, una volta chiuso torno nella forma compatta. Dopodiché voglio farvi vedere anche un'altra cosa, sia che si è personalizzato che nel preimpostato c'è anche la possibilità di far vedere l'oggetto in maniera trasparente. Eccolo qua, lo vedete che ora ci si vede attraverso perché spesso può essere utile quando abbiamo molti oggetti multipli e vogliamo vedere all'interno di questi oggetti. Per questo momento lasciamolo perdere e finiamo perché riguarda la trasformazione delle caratteristiche fisiche di questo oggetto. Per finire in realtà vediamo le sue dimensioni. Quando cliccate sopra vedete che ci sono dei punti di controllo bianchi, sono quattro su una faccia e uno superiore. Perché sono quattro? Perché in realtà, se guardate bene, ci sono delle linee tratteggiate, questo è sulla linea in basso a sinistra davanti, questo è su quella dietro. Cosa succede se ci clicco sopra? Posso cliccare e tirare. Cosa posso modificare cliccando questo che diventa rosso, punto di controllo? Posso cambiare le larghezze e la profondità. Lo vedete anche attraverso i numeri che vi danno le dimensioni reali punto per punto. Sappiamo che noi abbiamo scelto di muoverci un millimetro alla volta. Questo è uno dei metodi. Altro metodo ovviamente è quello di scrivere direttamente una misura. Quindi i punti mi danno la possibilità di cambiare la misura. Facendo cosa? Facendo in modo da poter cambiare le dimensioni. Se io seleziono i punti che sono davanti, in basso a destra, ovviamente la parte dietro rimane ferma. Come rimane ferma quella sinistra? Se invece seleziono quella sinistra davanti, rimane ferma quella dietro e quella a destra. Se prendo quella invece dietro è l'inverso, rimane quella davanti, ferma. Quindi da quel punto di vista lì è comodo. La cosa che diventa un po' difficile, però se vedete è, ad esempio, si voglio allungare questo venti per venti. Torniamo all'originale. Questo venti per venti voglio allungarlo solo, diciamo, in profondità e vengo avanti. Faccio un po' fatica a mantenere i venti di larghezza perché rischio di scivolare. Quindi cosa succede? Hanno introdotto questi punti neri che sono i punti intermedi. I punti intermedi in realtà quando ci clicco sopra, vedete, non si accendono più due dimensioni ma solo una. Questo punto qua davanti mi fa fare solo la modifica della profondità e non della larghezza. Chiaramente quello dietro mi tiene fermo la faccia davanti, come quello a destra mi tiene fermo la faccia sinistra e così via. Quindi sono quattro punti di controllo che controllano due misure al colpo e quattro che ne controllano solo una. Quello sopra evidentemente controlla l'altezza. Cosa possiamo fare ancora? Possiamo anche fare in modo che queste misure cambiano tutte assieme. Basta tenere premuto il tasto maiuscola, prendere uno dei punti di controllo e trascinare. Vedete che il vostro cubo aumenta o diminuisce ma le proporzioni rimangono le stesse. La stessa cosa possiamo farlo se digitiamo direttamente sui numeri. Basta cliccare sul rosso tenendo premuto shift e tutte le dimensioni automaticamente aumentano. Vediamo poi altri tipi di controlli che ci sono su tutti gli oggetti. Ci sono queste due linee curve. Se ci clicchiamo sopra vengono fuori degli anelli graduati che sembrano un goniometro. In effetti lo sono. Basta cliccare sopra qui, venire in fuori, vedete che c'è una lineetta rossa che appare e cominciare a girare. Qui se vedete i gradi cambiano di uno alla volta. Una cosa un po' particolare è che il punto zero è questo davanti. Se vado in senso orario i numeri sono positivi e arrivo fino a 180. Se poi invece da zero vado a destra o meglio in senso antiorario i numeri diventano negativi. Quindi quel punto in fondo è contemporaneamente il meno 180 e il più 180. È un po' strano ma basta saperlo. Altra cosa da fare. Se voi tirate verso l'info o voi so fuori, verso l'esterno del cerchio graduato i numeri cambiano, i gradi cambiano di uno alla volta. Se invece stiamo in dentro vedete che i gradi cambiano a scatti di 22 gradi in mezzo di cui i multipli sono ad esempio 45 gradi e 90. È comodo? Sì potrebbe essere, però è molto difficile secondo me stare vicino all'oggetto. Per cui preferisco stare fuori e tenere premuto per l'ennesima volta il tasto maiuscola. Con il tasto maiuscolo escono solo scatti step di 45 gradi.